In questi giorni si è parlato tanto della direttiva europea che obbligherebbe ad arrivare a determinati standard energetici per quanto riguarda gli edifici entro il 2030 pena l'inammissibilità alla compravendita o all'affitto degli immobili. Non è proprio così perché poi è stata ritrattata questa parte. Ho già fatto un articolo su questo argomento, in questo video cercherò di riassumere i contenuti e ti aggiornerò sulle novità. Non è una notizia nuova, però è qualcosa che probabilmente da qui a qualche mese impatterà il panorama dei bonus. Perché? Perché qualcosa il governo dovrà fare a seguito di ciò che verrà approvato dall'Europa. Ciao, mi chiamo Danilo e nella vita faccio anche il geometra. Prima di continuare lascia mi piace al video, iscriviti al canale se non vuoi perderti contenuti come questo, dove ti informo sulle novità e sui possibili scenari futuri che riguardano la ristrutturazione della casa. E se vuoi fare uno step in più e vuoi sostenere il lavoro che faccio online, che faccio con tanta passione, al quale dedico tanto tempo, puoi verificare i contenuti per gli abbonati. Puoi abbonarti. Abbonandoti accederai a contenuti esclusivi e a vantaggi esclusivi. Trovi tutto in descrizione. La direttiva europea EPBD andrà a determinare per i prossimi mesi e anni l'obiettivo, o meglio il raggiungimento degli obiettivi obbligatori per quanto riguarda il consumo, il contenimento del consumo energetico per gli edifici. Questo impatterà probabilmente, anzi direi sicuramente, sulla compravendita degli immobili, per quanto riguarda l'Italia, ma tutti gli stati membri europei. Ma noi guardiamo il nostro piccolo stato a forma di stivale, più qualche isola. Innanzitutto, quali sono gli obiettivi della direttiva europea? Sono quelli di ridurre l'emissione di CO2, ridurli di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai dati, il nostro possesso, del 1990. Quindi, dai dati del 1990, l'obiettivo è di ridurre del 55% l'emissione di CO2, l'ho girata solo, entro il 2030. La conseguenza è che gli edifici privati, appunto, dovranno, entro il 2030, e poi a step successivi, ridurre sistematicamente il consumo di energia, produrre energia da fonti rinnovabili per emettere meno CO2. L'obiettivo dichiarato è quello di raggiungere almeno la classe E, quindi l'ultima classe, la G, almeno la classe E entro il 2030. Ora, al di là delle differenze che riguardano la classificazione energetica degli edifici tra i vari stati membri, probabilmente dovrà essere fatta una norma univoca che almeno standardizza il metodo di calcolo. Ma al di là di questo, il 75% degli immobili in Italia è tra le ultime tre classi energetiche. Quindi, in pratica, raggiungere la classe E sarà un'esigenza di massa, di intervento di massa, che sappiamo tutti non potrà essere fatto su iniziativa privata, se non c'è un incentivo statale che giustifichi un pochino l'operazione, almeno dal punto di vista del privato cittadino, o dia la possibilità a chi non ne ha di poter eseguire quei lavori, a chi non ha possibilità economica di poter eseguire quei lavori, con gli incentivi appunto fiscali. Inizialmente si parlava addirittura, per gli edifici che non avessero raggiunto i standard richiesti, di un'inammissibilità alla compra-vendita. Questo è un po' stato tirato indietro. Si demanda ai singoli stati eventuali sanzioni e modalità con le quali raggiungere i vari obiettivi, però sicuramente anche non dovessero essere messe delle norme restrittive. In questo senso è ovvio che il valore di compra-vendita degli immobili, che non saranno almeno della classe E e poi della classe D negli anni successivi, entro il 2033 se non sbaglio, è ovvio che il valore della compra-vendita degli immobili in classe, nelle ultime due classi, si ridurranno ai minimi termini. La criticità principale in Italia è che il panorama delle proprietà è molto frammentato, non c'è, come in altri stati, il grande proprietario di tante unità, di tanti edifici. Noi abbiamo un panorama dove c'è il singolo proprietario all'interno del condominio, tante proprietà, e quindi bisogna innanzitutto superare lo scoglio di dover mettere d'accordo tutti, o almeno la maggioranza richiesta, per eseguire i lavori. E poi c'è la questione dei centri storici, che non è una prerogativa italiana, però è comunque un problema dei centri storici dove le possibilità di intervento sono molto più limitate, specialmente per quegli edifici che hanno un carattere storico, artistico, architettonico. Ci sono limitate possibilità di intervenire per efficientare energeticamente gli edifici. Da una parte questo, da una parte la frammentazione della proprietà in Italia, queste sono criticità importanti per portare avanti una politica di efficientamento energetico a livello di massa. Le probabili soluzioni per incentivare tutto ciò, al di là degli impedimenti tecnici, è che il governo ristrutturi il panorama dei bonus e li renda strutturali nel lungo periodo con un obiettivo concreto di raggiungere gli standard richiesti a livello europeo attraverso questa direttiva. Negli ultimi tempi è stato sabotato di fatto il sistema dei bonus in Italia, attraverso l'azzoppamento o l'eliminazione delle opzioni alternative, cessione del credito sconto in fattura, che davano possibilità anche a coloro che non avevano disponibilità economiche di poter eseguire i lavori, se non c'è questo meccanismo o uno simile, anche chiamato in modo diverso, strutturato in modo diverso, che dia possibilità a tutti di poter eseguire i lavori, molto difficilmente l'Italia potrà raggiungere gli obiettivi richiesti dalla direttiva, che dovrà essere discussa da qui a qualche settimana, poi avremo la versione definitiva. In conclusione, il 2030 sembra tanto lontano, ma in realtà non lo è, pensando alle tempistiche degli interventi edilizi di riqualificazione energetica, e io ci metto anche della messa in sicurezza statica degli edifici. Però, se tutto ciò viene incentivato attraverso una buona normativa che incentivi attraverso dei bonus l'esecuzione dei lavori, con molta probabilità molti si riavvicineranno alla ristrutturazione, alla riqualificazione energetica del proprio edificio, e anche se, per quanto riguarda il numero delle imprese in Italia, per quanto riguarda la possibilità di eseguire i lavori in un ristretto numero di anni, come quelli che ci dividono da qui al 2030, difficile pensare di poter realizzare da qui al 2030 gli interventi su tutti gli edifici che ne hanno bisogno, però è vero anche che con un adeguato sistema di bonus, con molta probabilità, potremo raggiungere degli ottimi risultati. Dico potremo perché parlo a livello italiano, tutti noi italiani, tecnici, imprese, proprietari. Ovvio che lo Stato dovrà rivedere gli incentivi che siano sostenibili nel lungo periodo, che siano strutturati nel lungo periodo, quindi resi in modo che non vengano cambiati sistematicamente anno per anno, accorgimenti e correzioni ci stanno, ci stanno sempre, ma rivoluzionarli ogni anno e mezzo sarebbe opportuno di no, visto che le tempistiche di una ristrutturazione, per le tempistiche di una ristrutturazione, un anno e mezzo è quasi nulla. Ulteriore punto in conclusione di tutto ciò, su questa direttiva ora stanno arrivando una valanga di emendamenti che probabilmente ne cambierà i contenuti per alcune sue parti. Comunque, come ti dicevo, poi andremo magari ad analizzare il testo definitivo. Grazie di essere arrivato fin qui, lascia mi piace se ancora non l'hai fatto e ci vediamo al prossimo contenuto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.